Oggi direi, tempo permettendo, appunto, vediamo un po' quanto tempo ci metteremo a affrontare questa parte, ma rivedrei un attimo le slide che abbiamo visto nella scorsa lezione, no? E passerei poi un pezzettino avanti, in modo da poter iniziare a farvi vedere più nel dettaglio, appunto, queste slide, diciamo, le slide più specifiche sui singoli frasi al world. E come dicevo, è un argomento che capisco che non a tutti potrà risultare magari divertente o comunque interessante, ma è fondamentale. Io, visto che è da un po' che lo stiamo vedendo, almeno quando vediamo la parte, diciamo, generica, meno specifica, come adesso, cerco di andare un po' più velocemente, se per voi è tutto chiaro. Allora, direi di stare magari i primi verbi che avevamo visto anche l'altra volta, quelli un po' più, diciamo, tra virgolette tristi o comunque non tanto allegri, che tanto mai, appunto, chi ha seguito queste ultime lezioni dovrebbe già ricordarsi, che è to pass away, è un sinonimo di morire, però, come dicevo, speriamo che non dovete utilizzare in una frase in inglese. Sempre più o meno simile all'ambito di pass away, abbiamo to come into, che di solito, appunto, significa editare. E avevamo visto poi to come at, che significa, appunto, attaccare. E to run over, che appunto significa descrivere brevemente o sintetizzare un determinato argomento. E avevamo anche visto to come about, che significa, appunto, capitare, succedere. E un altro verbo simile a come at è to go for. Nel caso specifico vediamo in questo esempio, che è sempre di quelli magari non proprio simpaticissimi, quindi go for somebody's throat, quindi aggredire qualcuno alla gura. E avevamo anche visto to act up, che voleva dire e creare confusione, o fare confusione, diciamo in italiano. E avevamo arrivati, se non sbaglio, a speak up l'altra volta. Non so se ti ricordi, Fiorella? Sì. Benissimo. E avevamo arrivati fino a speak up, giusto? Sì. Perfetto. Quindi, appunto, avevamo visto to play up. Quindi, rileggiamo questo esempio, Children who do not receive enough attention may begin to play up. Quindi, i bambini che non ricevono sufficiente attenzioni potrebbero cominciare a comportarsi male. Quindi, play up non ha nulla a che fare con giocare, bensì, come abbiamo visto, vuol dire comportarsi male, no? Perfetto. Abbiamo poi to turn down, quindi che in questo caso significa abbassare il volume. E avevamo anche visto, invece, alzare non il volume di un qualcosa, ma alzare la voce, che è to speak up. Quindi, parlare, appunto, è con un tono di voce più alto. E avevamo qui l'esempio, could you speak up? E I can't hear you. Puoi alzare la voce, non riesco a sentirti. Quindi, e allora, se abbiamo visto anche questo anno, il libro mi sa di sì, Did the trip to Paris ever come off? che significa avere il luogo, appunto. C'è mai stato il viaggio a Parigi, ha mai avuto luogo il viaggio a Parigi. E poi abbiamo to pick up on something, e nel caso specifico abbiamo, Did you pick up on his nervousness? Quindi, ti sei accorto del fatto che è nervoso, del suo nervosismo? E ok. Poi abbiamo agire, o influenzare un determinato aspetto, come nella frase seguente, Different drugs act on different parts of our body, in many different ways. Quindi, e diversi medicinali o diverse droghe, agiscono su parti diverse del nostro corpo, del nostro organismo, in vari modi, in molti modi diversi. Perfetto. Questi verbi per ora vi sono tutti chiari, giusto? Sì. Benissimo. Abbiamo anche seguire qualcuno, che è to come after somebody. Possiamo dire, per esempio, please come after me, per favore seguimi. Oppure, come abbiamo in questo caso, quando vogliamo, per esempio, intimidare qualcuno che ci sta inseguendo, don't try to come after me. Non provare assolutamente o non provare a seguirmi. Un altro verbo che è molto utile, questo mi raccomando, ricordatevelo, è to bring up something, ossia menzionare, infatti abbiamo il sinonimo che è to mention, quindi parlare e menzionare qualcosa. Quindi, in questo caso, abbiamo don't bring up politics if you want to have a quiet conversation with that guy. E questa frase ci dico, da tra l'altro, adesso mi discrosso un attimo dalla grammatica vera e propria, come in inglese, di solito, quando non conosciamo bene una persona, è una buona idea e non parlare di argomenti troppo personali, come la politica. Infatti, in questo esempio, abbiamo do not bring up, quindi non menzionare, non parlare, politics, di politica, se vuoi avere una conversazione tranquilla, con quell'uomo, con quella persona. Perfetto. E un altro verbo che è molto facile da trovarsi, soprattutto nel lato abbastanza informale, è il seguente, che è to mess around, quindi scherzare o non prendere seriamente una determinata cosa. Nell'esempio specifico, che mi scuso nuovamente, anche questo non è dei più felici, abbiamo don't mess around with electricity if you don't understand it. Quindi, do not mess around e non scherzare, non giocare con l'elettricità, non prendere poco seriamente l'elettricità, se non ne capisci, se non ci capisci, appunto, se non sei esperto di, diciamo, di questo ambito specifico dei sistemi elettrici, piuttosto che perfetto. Adesso invece abbiamo il verbo che è equivalente di precedere, che in inglese precedere si direbbe precede, come lo vediamo appunto qui tra parentesi, ma il verbo to precede, onestamente, io non l'ho mai sentito prima nel parlato, sarà molto più facile, molto più comune trovare to come before, quindi letteralmente venire prima o precedere, quindi abbiamo in questo caso l'esempio f comes before, la f precede, g in the alphabet, quindi la f precede la g nell'alfabeto. Benissimo, andiamo avanti. Allora, restituire, sapete tutti come si dice in inglese, se avessi, sì, esattamente, benissimo, quindi se avessi prestato, come vediamo in questo esempio, il nostro libro a qualcuno e lo volessimo indietro, non dovremmo fare nient'altro se non dire magari anche con un please, anche se in questo caso non ha, nell'esempio non c'è, give me back my book, please, o please give me back my book, quindi restituiscimi il mio libro, e un altro sinonimo lo possiamo trovare tra parentesi che è to return, e questo appunto come sapevate è appunto brave, questo è a to return o to give back che significa restituire, e invece hang on l'avete mai sentito? No, no. Allora, e soprattutto nell'inglese britannico molto spesso quando una persona sta facendo qualcos'altro o ha bisogno diciamo di un attimo prima di poterti parlare per esempio, ti dirà hang on let me check o semplicemente hang on che vuol dire aspetta, dammi un attimo, e quindi più che magari trovare to wait come dicevo sarà facile trovare to hang on un altro modo è molto usato nel parlato è per esempio just a moment just a second just one minute five minutes ten minutes quindi oltre alla forma con il just puntini puntini quindi solo appena cinque minuti e poi riuscirò a farlo dove appunto in inglese si dice semplicemente solo cinque minuti e si può usare un'altra forma che a me risulta come dicevo anche più non so più comoda da usare nel parlato questo hang on quindi un attimo let me check che significa lasciami controllare perfetto andiamo ancora avanti un po' velocemente allora he accidentally let out the location for the meeting quindi let out che è un sinonimo to disclose ossia svelare quindi per sbaglio ha svelato la location il luogo appunto di dove sarebbe stato il meeting l'incontro questa frase se la possiamo immaginare in un ambito in cui magari si teneva un evento per poche persone e appunto il soggetto di questa frase probabilmente per sbaglio gli è scappato il diciamo il luogo dove si tiene gli è venuto da dirlo a delle persone che non avrebbero dovuto saperlo perfetto direi che possiamo andare avanti mi sentite? sì sì benissimo perfetto he has his work cut out for him quindi ha diciamo il il suo lavoro organizzato per lui quindi magari questo doveva fare un determinato lavoro in un ambito specifico come può essere non so e l'ideaurico che ci dà un appuntamento no? e to cut out quindi significa organizzato e o preparato inteso come appunto predisposto no? perfetto allora vabbè il successivo io ve lo dico però onestamente anche se non ve lo ricordate su questo non vi preoccupate quindi to bring forth che significa quindi avere o creare per esempio nel caso specifico nuove idee vediamo subito l'esempio he has the ability to bring forth new ideas when they are needed letteralmente in italiano in questo caso si potrebbe dire magari di generare magari generare nuove idee si dire che si può usare generare in italiano in questo caso anzi concepire ecco il verbo che stavo cercando quindi to bring forth più che create è usato generalmente come appunto equivalente del verbo italiano concepire allora abbiamo poi to keep away lo conoscete tutti questo verbo appunto che vi sto indicando adesso sullo schermo allora to keep away quindi letteralmente mantenere lontani significa semplicemente evitare no quindi possiamo dire keep away o avoid onestamente a me è capitato di solito trovare molto più comunemente appunto to keep away che appunto avoid vi leggo velocemente questa frase he tries to keep away from danger quindi ha cercato di stare lontano di evitare il pericolo allora quindi adesso abbiamo to come up che anche quello è un verbo abbastanza comune leggiamo intanto la frase così poi mi direte voi se vi è chiaro quale è il significato he came up before a judge and was fined a thousand dollars quindi secondo voi cosa significa questa frase è comparsa davanti che è anche ed è stato bravissimo quindi appunto in italiano significa comparire oppure presentarsi in un'occasione ufficiale di solito come può essere appunto davanti a un giudice quindi a un'udienza piuttosto che non so per esempio a uno speech oddio mi sfuggire i termini italiani per dire speech a un evento pubblico no quindi abbiamo una persona che si presenta quindi come come diciamo tiene l'evento quindi se abbiamo una persona che parla durante un evento possiamo dire during the event the famous professor came up quindi si è presentato ha presenziato il famoso professore quindi to come up e to show up sono abbastanza simili come verbi c'è proprio una leggera sottigliezza una leggera differenza di significato perfetto allora e to check out lo conoscete come verbo vuol dire controllare esattamente quindi he checked out the rumor and managed to verify that it was true è un po' più particolare come frase diciamo un po' più complicatina rispetto a come di solito viene usata per esempio se abbiamo una nuova macchina possiamo chiedere a un amico do you want to check out my new car puoi vedere la mia nuova appunto auto in questo caso invece abbiamo che viene usato come verificare no quindi ha allora ha verificato la voce inteso come il pettegolezzo no e ha ha fatto in modo di verificare che fosse veritiera perfetto allora quindi vi è mai capitato che magari dite a una persona do you want would you like to come to my party tonight per esempio e vorresti venire alla mia festa stasera e la persona ci risponde sorry I pass quindi mi spiace passo rinuncio in questo caso la reazione che fa la persona nello specifico è to pass up quindi rinunciare rifiutarsi a presentarsi a un determinato evento quindi he passed up my invitation for dinner è tutto chiaro per ora? ok benissimo allora qualcosa abbiamo sì no no prego no no cercavo cercavo vorrei leggere qualcuno volete provare a leggere voi e mi dite quello che secondo voi è significato meglio di no come come volete voi ok dai vabbè parlate un po' a voi così cosa vuol dire? è quello che stavo per chiedervi appunto e mi voglia dire qualcuno il significato di questa frase mettere non in questo caso no no allora to pull in in questo caso quindi leggiamo la frase he pulls in a lot of money significa guadagna quindi to earn è il sinonimo è l'altro verbo che si potrebbe utilizzare guadagna molti soldi quindi to pull in appunto questo verbo che di solito è questo frase al verb che è costituito dal verb non ti sento che è successo? non ti sento c'è un'interprese non ti abbiamo sentito per un secondo Fiorella c'è stato un problema di connessione ah ok va bene benissimo adesso mi sentite bene giusto? sì perfetto dicevamo quindi questo frase verb to pull in è costituito dal verbo to pull il verbo to pull da solo vi ricordate cosa significa? mettere per esempio se lo trovate su una porta da un lato trovate tirare tirare esattamente una cosa che dico per esempio quando andate in Inghilterra o comunque in un paese di lingua inglese è facile confondersi quando si è davanti una porta e soprattutto perché molto spesso per esempio se andate in Inghilterra ci sono alcune porte che non hanno la maniglia cioè semplicemente in quel caso diciamo se non hanno la maniglia sapete già che le porte sono appunto da push da spingere ma in altri casi invece troverete il cartello pull da un lato e push dall'altro se trovate to pull significa appunto tirare to push spingere essendo le parole molto simili come è capitato persino a me a volte uno magari legge molto velocemente legge le prime due lettere quindi più che sono uguali in entrambi i casi e può capitare di confondersi magari di trovarsi davanti a una porta a cercare di tirare quando si sarebbe da spingere niente questo è un episodio un po' simpatico un po' particolare così direi di tornare appunto quindi ha questo verbo quindi to turn down lo conoscete? l'avete mai usato? turn down? Alessandro una mano alzata benissimo allora Camina avevi qualche dubbio? e Carmina per parlare devi attivare il microfono ciao no devo uscire perché c'è la mia nipotina seguirò la prossima volta ciao buona buona serata benissimo ok poi ricordo se qualcuno dovesse uscire non ci sono problemi eventualmente c'è anche modo di seguire le lezioni appunto del corso avanzato che si svolgeranno dalle 19.30 in poi benissimo allora direi che possiamo andare avanti ok eravamo arrivati a tutto turn down giusto nessuno di voi ha avuto modo di usare questo verbo in passato no maestro stiamo vedendo però le facce non il 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 non è più condiviso no si era condiviso alessandro io la vedo la slide io allora io non le vedo alessandro non le vedo devi andare nell'angolino a destra e lì fai clic sopra benissimo e adesso ancora niente lì aspettiamo le le devo prima ma adesso alessandro ti conviene chiuderle a te e poi rimetterle facciamo prima benissimo allora condividi lo schermo perfetto giusto un momentino che rimetto subito lo schermo in condivisione adesso nessuno vedrà lo schermo e tra un attimo dovresti rivederlo tutti eccolo adesso dovremmo vederle tutti eccolo sì perfetto prego alessandro grazie allora dicevamo quindi nessuno ha mai sentito o ha utilizzato il verbo non che rifiuta per esempio quando una persona appunto ci offre diciamo ci offre una mano ci dice vuoi una mano ti posso aiutare oppure come dicevamo prima ci invita a cena no potremmo dire sorry I have to turn down your offer per esempio mi spiace ma devo rifiutare la tua offerta la tua proposta ricordatevi che come al solito l'inglese è pieno di false friends quindi di false amici e se diciamo vi capitasse davanti il sostantivo proposal o vi venisse magari perché l'avete sentito o letto una volta vi venisse spontaneo tradurre il termine italiano proposta con proposal ricordatevi che non il significato non è lo stesso non commettete questo errore e qualcuno di voi sa cosa significa proposal in inglese proporre no è sempre proposta ma è un tipo di proposta specifica quindi può anzi può essere anche un po' quasi simpatico quasi ridicolo sentire usato il termine proposal come proposta in generale appunto come dicevamo proposta in generale può essere offer o in altri ambiti può essere anche proposition e dipende appunto poi anche dall'ambito specifico però proposal è la proposta di matrimonio quindi è leggermente diverso no come questo invece molti di voi già che stiamo parlando appunto di proposal e di resti collegato al marriage al matrimonio un altro termine un altro false friends che probabilmente avete già visto più e più volte il termine fiancé qualcuno di voi sa qual è il significato di questa parola io penso fidanzata non esattamente promessa sposa esattamente può essere sia appunto maschile che femminile quindi può essere sia promesso sposo futuro sposo che futura sposa è utilizzato solo appunto quando c'è stato come dicevamo un proposal una proposta di matrimonio prima di tale data appunto si parla del classico boyfriend o girlfriend nel caso in cui le persone siano un po' più giovani se invece le persone magari hanno più di una quarantina ad anni e letteralmente appunto boyfriend e girlfriend significa ragazzo e ragazza o diciamo può essere usato anche come compagno o compagno però diciamo ad una certa età può risultare anche un po' ridicolo ho sentito dire nel caso specifico si può usare semplicemente i termini che noi usiamo più in atto degli affari quindi il termine partner può essere usato come compagno no? perfetto diciamo abbiamo fatto anche un po' di diciamo abbiamo imparato anche un po' di essici diversi abbiamo staccato un attimo direi allora che possiamo tornare un attimo ai further words dopodiché vi direi che possiamo magari dare un'occhiata all'argomento magari più nel dettaglio ma non temete oggi volevo farvi vedere anche magari un po' di argomenti un po' più interessanti cultura generale piuttosto che argomenti un po' più leggeri non vi voglio trassare con un'ora di further words quindi finiamo un attimo qui allora dicevamo quindi to turn down è rifiutare un invito una proposta un'offerta e mentre to go off può essere usato in alcuni casi di solito quando si lascia improvvisamente un determinato luogo e vediamo l'esempio quindi he went off without a word quindi se n'è andato senza proferire una parola diremmo in italiano e quindi in questo caso to go off che qui vediamo al passato è sinonimo di to leave lasciare o andarsene appunto da un luogo no? perfetto allora direi che queste frasi almeno per oggi per quanto riguarda diciamo è un po' di pillole un po' di frase che man mano troveremo in ambito generale direi che può bastare tornerei un attimo all'ambito un po' più specifico dei frase al verb adesso ve ne farò vedere qualcuno più nello specifico dopodiché come dicevo per oggi passeremo passeremo a qualcosa di un po' più rilassante un po' più divertente come può essere la cultura adesso vi farò scegliere a voi volevo farvi vedere Alessandro scusa posso fare una domanda come si dice abbassare il volume allora abbassare il volume abbiamo visto come si vede come si dice alzare il volume te lo ricordi? no non mi ricordo allora abbassare e turn down turn down esattamente tu chiedevi abbassare o alzare? io dicevo abbassare quindi turn down the volume quindi e se vuoi essere magari un po' più polite un po' più gentile no puoi puoi dire come in questa frase could you turn down the volume a bit potresti abbassare un pochino il volume ma allora anche vuol dire anche rifiutare una proposta esattamente ah ok va bene grazie il frase to turn down può essere usato in vari ambiti come dicevo molto capita abbastanza spesso che due fraser verb siano identici o magari simili però possono avere dei significati completamente diversi e per quello che come dicevo appunto durante le lezioni ci tengo magari prima a farvi vedere un po' di frasi in modo che iniziate a imparare alcuni dei fraser principali e dell'utilizzo nelle frasi e poi una volta che abbiamo appunto visto questa parte che poi troverete nelle slide appunto nel drive mi confermate che riuscite ad accedere tutti al drive giusto? sì benissimo dopo aver visto questa parte e appunto nelle prossime lezioni ma anche oggi potremmo passare a una parte che vi faccio vedere subito giusto un momentino che apro il drive apro la mia cartella allora eccoci vedremo poi appunto come l'avevo preannunciato l'altra volta e durante le varie lezioni oltre alla parte più specifica sui vari fraser verbs una parte in cui andremo a vedere più nello specifico quali possono essere i vari significati dei fraser verb che derivano dallo stesso verbo per esempio abbiamo già dato un'occhiata appunto ai fraser verb con to be abbiamo in questo caso per esempio appunto to be above to be alone to be around being for being on beyond about beyond to be up to be out for be there for be with e ne vedremo altri poi appunto nelle prossime lezioni e come dicevo adesso come adesso ancora un po' di lezioni mi piacerebbe concentrarmi sui fraser verb in modo da richiedere un po' il vostro lessico specifico no? dopodiché vorrei fare un ripasso insieme un po' di tutti gli argomenti magari partendo proprio dal ripasso su fraser verb diciamo degli esercizi su fraser verb per vedere se è tutto chiaro e da lì volevo vedere se man mano appunto si riusciva magari ad andare a lavorare più nello specifico sul diciamo sul costituire le frasi e sul dialogare in lingua inglese benissimo se riusciremo pian piano ad arrivare a questo punto mi piacerebbe iniziare a parlare singolarmente con voi in inglese come come forza già detto in passato comunque soprattutto considerando che è un livello base non vi preoccupate se magari avete ancora delle raccune per quanto riguarda il lessico o se ci sono dei termini che non vi sono ancora chiari o se magari vorreste fare ancora delle lezioni specifiche più sul lessico magari sui sostantivi usati nello specifico in determinati ambiti come vi dicevo appunto io sono a vostra disposizione possiamo anche magari fare esercizi in cui io vi darò delle frasi da tradurre dall'italiano all'inglese oppure dall'inglese all'italiano giusto per vedere se diciamo ci sono delle cose che magari non vi ricordate o ci sono dei termini che magari io do per scontato che voi conosciate e non conoscete ancora avremo modo di vedere tutto questo e come dicevo citerei che nei prossimi mesi arriviate diciamo a un maggior livello di indipendenza per quanto riguarda il dialogo quindi se ci sono problemi per quanto riguarda gli argomenti o se avete delle osservazioni da fare come dicevo sono a vostra completa disposizione di niente allora come dicevo l'ultima cosa dopodiché passare un attimo alla cultura lingua inglese riguardo ai paesi di lingua inglese allora e chi rappresenta le selezioni questi significati appunto dei frasi al verb con to be vi sono chiari sapete cosa significa to be above benissimo essere superiori quindi un esempio vi viene in mente allora quindi qui abbiamo l'esempio che abbiamo già visto nella selezione che era I thought you said you were above this kind of antics quindi pensavo che tu fossi superiore a questo genere di cavolate no di antics sono sì cavolate sono cose frivole no quindi con to be above appunto questo verbo lo possiamo usare in questo contesto no quindi I'm not se io dicessi I'm not going to listen to him non lo non lo voglio ascoltare non ho intenzione di ascoltarlo I'm above the nonsense he's talking about verrà scrivo subito questa frase in modo che vi sia più chiaro possiamo dire appunto I'm above his instance were above all the nonsense this token about quindi sono superiore alle cose senza senso al nonsense se non sbaglio esiste anche in italiano questa parola appunto di cui sta parlando benissimo e quindi to be above vi ricordate qual altro significato poteva avere oltre appunto essere superiore a una determinata situazione a a a a a a a a a Grazie. L'accezione gerarchica che può avere il verbo appunto to be above somebody, essere superiore a qualcuno, quindi John is above Jim because he is his boss. Quindi John è superiore, è di grado superiore a Jim perché è il suo capo. E' usato molto questo termine, questo verbo appunto to be above somebody anche in ambito militare. Non so se vi ricordate che l'avevamo visto appunto nelle elezioni precedenti, quindi General Smith is above Private Johnson. Quindi appunto il Generale Smith è di grado superiore al cadetto Johnson. Perfetto. Allora, to be alone, ve lo ricordate quale è il significato? Allora, to be alone significa appunto arrivare, come possiamo vedere nell'esempio in questa frase. I expect John will be alone soon. Quindi immagino, mi aspetto che John arrivi presto. Perfetto, allora direi che l'argomento nello specifico, come dicevo, lo possiamo anche vedere nelle prossime elezioni. Volevo farvi vedere un attimo a voi, se avevate voglia di leggere un qualcosa, diciamo, di più interessante, no? Di cultura generale. Allora, come ben sapete trovate già il materiale nel drive. Ciao Alessandro! E ci vediamo dopo, Fiorella. A dopo, ciao! A dopo, bye bye! Ciao a tutti! Perfetto, allora. Vi chiedo giusto un momento. Ok, sì, ce l'ho già aperto. Allora. Qualcuno di voi ha avuto mai modo di andare in America? Allora, vabbè, grazie a Nella, me ne avevi già parlato, giusto? No, al momento è un attimo occupata, nessun problema. E se vi va, appunto, vorrei leggere con voi questo testo riguardo al ponte di Brooklyn e alla sua storia. E ditemi voi, lo posso leggere io, altrimenti se volete, lo potete leggere voi all'altra voce. Lo leggo io, perfetto. Allora, quali sono le origini e qual è la storia delle ponte di Brooklyn? Si potrebbe affermare in sintesi che si tratta di un esempio di resilienza, ovvero dalla capacità di far fronte a una difficoltà o un evento traumatico. Una notte gelida dà il via della storia delle ponte di Brooklyn. Tutta inizia, infatti, la mattina del 23 gennaio del 1867, davanti agli occhi degli abitanti di Brooklyn e New York, all'epoca città distinte, si apre uno scenario tanto straordinario quanto problematico. Il freddo della notte ha ghiacciato completamente l'estruivo, lo stretto marittimo che divide l'isola di Manhattan da Long Island, l'isola di Brooklyn e Queens. Chi di voi ha avuto modo di visitare New York saprà bene che Brooklyn e Queens sono due dei quartieri di New York che, come abbiamo visto qui, si trovano al di là dell'East River. Quindi da un lato abbiamo l'isola di Manhattan, quella che da molti è considerata la New York, la parte centrale di New York. E al di là dell'East River abbiamo l'isola di Long Island. Nella parte di Long Island, che è parte di New York, troviamo di New York City. Troviamo Brooklyn e Queens. Poi all'interno di New York ci sono appunto anche altre, diciamo, altre entità, altri territori, no? Che avremo un modo magari di vedere nelle prossime elezioni. Sarebbe interessante, per esempio, magari affrontare, appunto, vedere la realtà degli Hamptons, che è questo quartiere, diciamo, dove molte persone della New York, bene, no? Ma, appunto, molti dei benestanti newyorkesi passano le loro vacanze, soprattutto estive. Benissimo. Tra gli altri, diciamo, non negli Hamptons, però comunque sempre, appunto, a Long Island. E appunto, il grande Gatsby, di cui, diciamo, nel libro, dall'omonimo nome, appunto, Gatsby aveva proprio la sua casa, dove teneva i festini, proprio nella località di Long Island. Andiamo avanti. I traghetti e le imbarcazioni della baria sono bloccati dal ghiaccio e i traffici commerciali tra le due città rimangono congelati. Nel vero senso della parola, per molte settimane. I danni e disagi sono incalcolabili. Già all'epoca, circa un abitante di Brooklyn su 10 lavora a Manhattan ed è costretto ad attraversare le swive a bodo di traghetti freddi, lenti e scomodi. Più simili a chi ha i bestiame, che ha mezzi di trasporto pubblico per il modo in cui le persone vengono stipate. Da anni, gli abitanti delle due isole sognano una struttura che attraversi il volento fiume. Un ponte gigantesco che riesca a unire le due città, liberando i trasporti dalla tirannia del metro avverso. Tutti concordano su un punto. È giunto il momento di fare qualcosa. Espandere la città verso l'esterno. Benissimo. Qualcun altro vuole andare avanti a leggere? No, perfetto. Non è soltanto il problema meteorologico preoccupare. Nella seconda metà del XIX secolo Manhattan è già abitata quasi per intero, mentre il bisogno di nuove case per una popolazione in costante crescita si fa sentire in maniera sempre più pressante. E pensare che ancora non siamo arrivati al periodo dell'immigrazione di massa dall'Europa di fine ottocento. L'epoca dei grattacieli e dello sviluppo verticale di New York non è ancora iniziata. L'idea che domina è quella di espandere la città verso l'esterno, non verso l'alto. E Long Island sembra la piattaforma ideale per proseguire il processo di estensione della grande metropoli. Solo un uomo può riuscire nell'impresa di collegare i due lambi di terra. Si tratta di un sessantenne ingegnere d'origine tedesca. Il suo nome è John Augustin Roebling. Trasferitosi negli Stati Uniti in un momento di grande vitalità del paese dal punto di vista economico, Roebling ha già accumulato un'immensa fortuna grazie all'abilità dimostrata nel costruire ponti sospesi. L'impresa che gli si presenta davanti con i ponti di Brooklyn, però, è titanica. E sono in molti a dubitare che possa essere davvero portata a compimento. Un'impresa senza precedenti. È necessaria la determinazione teutonica di Roebling per realizzare l'opera ingegneristica più grande dell'epoca. La campata centrale avrebbe misurato circa 500 metri. Già da sola, quindi, sarebbe stata lunga quanto la metà dei ponti più grande esistenti all'epoca. Gli attori in sireno grotico dei ponti avrebbero raggiunto l'altezza di 275 piedi, circa 85 metri. Sarebbero quindi state sette volte più alte dei palazzi a cinque piani di Manhattan, al tempo i più imponenti della città. Non sono soltanto le dimensioni a preoccupare. Il fondo del East River è sabbioso, il che significa che è impossibile sapere quanto in profondità debbano essere costruite le fondamenta. Alla fine, se verranno poste una profondità compresa tra i 40 e gli 80 piedi, tra i 15 e i 25 metri circa. Nell'estate del 1869, a soli due anni dalla fatidica notte in cui è agghiacciato il East River, tutto è pronto per iniziare la grande impresa. La storia del ponte di Brooklyn, però, va quasi immediatamente incontro a una tragica battuta da verso. Ne vittima il suo ideatore stesso, John Rubin. Abbiamo ancora un attimo, abbiamo un paio di minuti. Volete andare avanti a leggere, oppure preferite che magari questo argomento lo lasciamo per la prossima volta, avete qualche domanda, qualche osservazione da farmi. Io, maestro, vorrei chiedere come faccio io a accedere a queste lezioni qua a Drive, come diceva lei. Tu, Giuseppe, hai già modo di accedere a quelle dell'avanzato, giusto? Io ho quelle di livello avanzato, le ho riuscita, non so come, però le ho sul tablet. Benissimo, ti mando subito il link, anche le base, il principio è più o meno lo stesso, appunto. Una volta che hai il link, riesci ad accedere, adesso ti faccio vedere intanto. Nella chat. Sì, sì, metto il link nella chat, comunque ti faccio vedere subito in diretta come si fa ad accedere. Comunque, Alessandro, io di quelli lì, frase al verb, cioè neanche uno, due o tre giusto li ho riconosciuti, ma non li avevo mai sentiti. Cioè, magari leggendoli ho incontrati, ma non avrei saputo, senza contesto, tradurli. Esattamente, è uno dei motivi per cui appunto si tenevo a far rivedere anche altri compagni del libro base. Molto spesso, come mi dicevi tu, per quanto riguarda il listening e il comprehension, non è sempre così difficile capire o comunque ascoltare, diciamo, un'altra persona che parlano. Però, conoscere diversi termini per esprimere appunto la stessa parola, o magari capire appunto un determinato verbo che non si conosce è un po' più difficile, no? E' anche per quello che ci tenevo a concentrarmi abbastanza sul lessico durante questa lezione. Benissimo. Maestro, grazie a lei sto diventando anche una genietta a usare il tablet, perché li sto guardando. Grazie a tutti.